Vi insegno a fare il tiramisù mio. Buonissimo, il tiramisù è uno di quei dolci che ognuno fa diverso. Il mio è buonissimo. Ognetto di mascarpone è un uovo. Io ne devo fare una valanga, per cui sette uova. Montiamo prima gli albumi. Sodi, magari essere così soda. Tuorli e zucchero. Non serve lavar le fruste. È quello che dovete fare prima gli albumi, così. Il contrario no, eh, non si monta. Ma traduco, mi raccomando. Montiamo bene i tuorli con il zucchero. Molto ben montati, mettiamo il nostro mascarpone. E lo montiamo. Non forte, se no schifo tutta la cucina. Mancano gli albumi. Con calma. Se si smontano la bevete, che schifo. Ne prendete un po' alla volta e poi dal basso verso l'alto. Ci vuole un attimo, questa è l'unica menata. Però questo bisogna farlo bene, perché se no dopo veramente fa schifo. Così fino alla fine. Piano, piano, adagino, adagino. Facciamo incorporare l'aria anche, così gli albumi non si smosciano. Incorporato, finiamo con le gocce di cioccolato. Oh, yes. Schianta, incorporiamole. Oro sai va sotto. No, gli altri biscotti che non mi piacciono. Caffè avanzato, non buttatelo mai via, perché può far sempre comodo. E facciamo così. Non li facciamo diventare imbibiti. Gli diamo il profumo senza renderli moushi. E cominciamo. Bam! Palettate! Palettate! Raga, non siate tirchi con la crema, perché la crema schianta la faccia. E per finire lo rendiamo presentabile col cacao. Non posso. Dobbiamo portarlo dagli amici. Un lenzuolo. Ma non basta mai, credete, non basta mai. Questo è il tiramisu. Top del mondo. Compermo. Non perché... Eh? Compermo. È certo. Buonissimo. Alla prossima ricetta. Buonissimo.